Ad Orsara di Puglia, martedì 25 luglio, si terrà un nuovo Job Day, il cui tema sarà promozione di sé nel mondo del lavoro, buoni esempi di self-marketing. L'evento, che rientra nell'ambito del progetto Orienta Orsara e che si sviluppa tramite l'avviso punti cardinali, punti di orientamento per la formazione e il lavoro, avrà luogo nell'Aula Consiliare del Comune alle ore 17. Dopo gli iniziali saluti del Sindaco Mario Simonelli e di Carmine Spagnuolo, coordinatore attività del Consorzio, si entrerà nel vivo dell'incontro. La finalità sarà approfondire attraverso la voce dei relatori tutte quelle attività volte a promuovere se stessi, le proprie competenze e la propria professionalità. Come in occasione degli altri Job Days, le attività sono destinate a studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani, con età tra i 15 e i 29 anni, persone in condizioni di disagio. Si tratta di giornate dedicate al lavoro, occasioni di incontro e confronto con le aziende del territorio ed esperti della materia. Grazie. 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 Grazie.